Continua la spolemica, se entra la Ryanair e Lugovelli Italia, da spresi la pubblicazione al sito della compagnia della pubblicità di Contrala l'Italia, ma la foto del ministro Umberto Bossi, a maldito centrale su Mat. Non sa son fetta a sagualdare le reazioni contro l'iniziativa della compagnia irlandesa, del pal del ministro d'Estra Spolza, Altero Matteoli, e del presidente dell'ente nazionale dell'aviazione civile, Vito Riggio. Lo presidente Elena, cavanvanti, raccolta la sindagina e passate allo Zajuz, dunazzo alla Ryanair, dei diversi osari opolsi italianze, entra a Kesho Tambelalghè. Grazie a tutti.